E non possiamo non parlare di questo colpo di scena tv, signori, salvo sottile non dovrebbe essere proprio più il conduttore dei fatti vostri. Dopo ben tre stagioni consecutive tra l'altro alla guida del programma ereditato del Giancarlo Magalli, i piani alti quindi la RAI avrebbe optato per questa decisione e avrebbe già individuato il nome per colui che lo sostituirà. La notizia è stata data in anteprima dal sito tvblog che sapete che è sempre in grado di dare informazioni precise ma soprattutto attendibili per quanto concerne il mondo della tv. E per salvo sottile si aprono dunque scenari completamente differenti, dato che non lo dovremmo vedere più al timone dei fatti vostri a partire dalla prossima stagione tv scelto un altro conduttore, amato dal pubblico ma alle prese con alcune polemiche nell'ultimo periodo. Tra non molto potrebbe esserci l'annuncio di Viale Mazzini, ma non sembrano comunque più esserci dubbi su quale sarà la strada da percorrere. Nelle ultime ore salvo sottile ha fatto i suoi saluti al pubblico, dopo l'ultima puntata dei fatti vostri, ma non si sarebbe trattato affatto di un arrivederci. Il suo sarebbe un vero e proprio addio a questo programma, come ha fatto intuire sui social, grazie, è stato bellissimo. E ora l'ex conduttore di quarto grado è pronto comunque per una nuova esperienza professionale, dato che la RAI vuole ugualmente confermarlo nella tv di stato. TV Blog ha annunciato che Sottile non resterà per il quarto anno di fila alla conduzione dei fatti vostri, ma molto probabilmente sarà sostituito dal collega Tiberio Timperi. Una sorta di cambiamenti a catena ciò che si sta verificando in RAI, infatti lo stesso Timperi non dovrebbe più presentare uno mattina e al suo posto ci sarebbe Beppe Convertini. Inoltre, si sarebbe anche scoperto il futuro della co-conduttrice dei fatti vostri, Anna Falchi. Sottile dovrebbe presentare un nuovo programma di politica e crime, mentre Anna Falchi dovrebbe restare al suo posto e condividere un'avventura lavorativa in compagnia di Tiberio Timperi, il quale nonostante la pace con Gianni Politi non proseguirà più a uno mattina. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.